Siamo a Milano per la seconda edizione del bando Aipo ITS dedicato alla ricerca in preemmologia, una bella iniziativa realizzata in collaborazione fra l'Aipo, l'associazione italiana dei preemmologi ospedalieri e l'azienda farmaceutica AstraZeneca. Ci facciamo raccontare il significato di questa bella iniziativa ma anche quello che sta facendo questa azienda nell'area respiratoria dalla dottoressa Gabriella Castellino, medical ed respiratorio e immunologia di AstraZeneca Italia. Dottoressa Castellino, i bandi Aipo ITS sono un bellissimo progetto realizzato in collaborazione con AstraZeneca, perché l'avete giudicato importante e tanto da supportarlo per la seconda edizione? Intanto la prima edizione è stata un successo quindi sicuramente l'importanza di questo bando rinnova la forza della partnership tra azienda farmaceutica e società scientifica. Crediamo molto nei giovani, i giovani hanno partecipato e risposto con entusiasmo, abbiamo ricevuto 32 progetti, 11 finalisti, due premiati, tutti di grandissimo rilievo e di grandissima importanza con degli argomenti veramente attuali che vedono il paziente al centro ma soprattutto l'innovazione. Ecco i progetti sono tutti progetti di ricerca, AstraZeneca è un'azienda che crede fermamente nella ricerca e poi tutti i campi in cui è impegnata. Dal punto di vista delle malattie respiratorie cosa fate per la ricerca sia a livello globale sia nel nostro paese? Noi siamo impegnati su tantissimi fronti perché crediamo non soltanto nel controllo delle malattie infiammatorie e respiratorie croniche ma anche nella possibilità di cambiare il decorso di queste malattie e quindi la nostra ricerca va soprattutto a dare un contributo nei confronti di un'identificazione precoce dei pazienti, una diagnosi precoce per un trattamento precoce al fine di ambire a un obiettivo terapeutico molto più importante rispetto ai traguardi che abbiamo raggiunto finora. Sente, le chiederei qualche anticipazione sulla vostra pipeline. Incominciamo con la BPCO che è stata uno dei temi importantissimi nei progetti di oggi. Cosa bolle in pentola, dottoressa Castellino? Tante cose bollono in pentola, molecole nuove, target nuovi, nuovi modi di somministrare i farmaci, qualcosa è già stato presentato al recente congresso americano, l'ATS, in particolar modo sul primo biologico che AstraZeneca porterà a vente come target l'interlochina 33 nella BPCO e molto altro verrà presentato al prossimo congresso europeo a Vienna a settembre. Dottoressa, l'altra area importante di impegno nelle malattie respiratorie è quella dell'asma grave. Anche qui si ci dà qualche anticipazione su quello che state facendo, su quello che vedremo nei prossimi mesi. AstraZeneca è presente nell'asma con un portfoglio di farmaci che vanno da molecole inalatorie a farmaci biologici, alcuni di approvazione un po' più longeva come il nostro bevalizumab, ma il tezepelumab è una recente novità. Il prossimo futuro vede queste stesse molecole in studio e in sperimentazione in diverse indicazioni che sono un po' un corollario dell'asma, quindi patologie che spesso si associano all'asma severo come la poliposi nasale o la vinosinusite cronica. Senti, in Italia ci dà qualche numero su quello che è il vostro impegno in quanto direzione medica? In Italia siamo l'azienda che in questo momento ha più studi clinici attivi. Noi contiamo nell'area respiratoria immunologia più di 30 studi clinici che coinvolgono più di 500 centri. Questo dà un'idea dell'impegno che anche nel nostro paese AstraZeneca sta mettendo per contribuire alla ricerca clinica.